Comissario straordinario per due anni a Rivalolo, com'è stata questa esperienza? Sicuramente forte per miglia componenti, direi emotivamente importante, mi ha arricchito anche professionalmente, intanto sono entrato in contatto con apparati e a parte le procedure che mi hanno anche sorpreso ma anche positivamente perché ho apprezzato moltissimo anche la dedizione e la collaborazione dei colleghi e dei funzionali e c'era comunque, e lo notavo spesso, facciamo anche raffronti con quello che si dice, la macchina comunale che è comunque inefficiente e inerte, invece devo dire che è stata un'ottima e piacevole sorpresa, quindi ringrazio veramente i collaboratori, i colleghi perché li ho visti sempre comunque presenti, non solo sul posto ma anche dal punto di vista operativo. Cos'è anche la colpita di più di questa città e dei rivarlesi? Beh, a parte l'iniziale diffidenza che potevo immaginarla, è stata forse reciproca, però pian piano, io poi ormai sono un meridionale ma trapiantato al nord, quindi conosco e apprezzo anche i lati dei settentrionali, nel momento in cui ci si apre, comunque si scompone la diffidenza, c'è un rapporto più consolidato, rispetto ai meridionali che poi forse inizialmente si aprono subito, poi magari qualche piccola sorpresa dalla riserva. Con i settentrionali, nel momento in cui c'è un rapporto di reciproco rispetto, ovviamente stima, quello rimane e rimane consolidato. Adesso dove andranno? Adesso già da marzo sono a Vicenza, quindi entro in zona, anche se io sono ferrarese, quindi emiliano, anche se napoletano, ma io sono settentrionali a tutti gli effetti, ma adesso torno a fare il vice prefetto vicario a Vicenza. Un augurio alla nuova amministrazione? L'augurio è che ovviamente non arrivi più nessun commissario, questo è pacifico, però penso, insomma, noi abbiamo lavorato per dare, penso, trasparenza alla casa comunale, quindi penso che un piccolo lavoro, comunque da questo punto di vista, sia stato fatto e credo che rimanga anche come sempre, che probabilmente anche i cittadini e gli stessi funzionari, gli stessi collaboratori si aspetteranno qualcosa di simile. Quindi questo è l'augurio. Passaggio di consegne dalla Commissione straordinaria al Neosindaco, come è stato? Sicuramente è stato un momento emozionante, un momento istituzionale, un momento che aspettavamo da tanto tempo e finalmente è arrivato. È sicuramente una grande responsabilità il passaggio di consegne di una città che esce da due anni di commissariamento. Ho ringraziato i commissari perché in questi due anni hanno fatto di più di quello che era il loro compito istituzionale. Adesso il lavoro passa sulle nostre spalle. Io so di avere una squadra forte, una squadra compatta, una squadra con professionalità ed esperienza. Ma ho detto prima e lo ripeto, mi sento ancora più tranquillo da quando in questi ultimi giorni, dopo l'elezione, ho fatto un passaggio nei vari uffici comunali, ho conosciuto il personale, alcune persone le conoscevo già, altre le ho conosciute in questi giorni, ho conosciuto i responsabili degli uffici, gli apicali, e devo dire che la loro professionalità, la loro disponibilità, mi rende veramente sereno e sono sicuro che potremo lavorare al meglio per il bene della collettività. A Rivarolo c'è tanto da fare e tanti nodi da sciogliere. Quali saranno i primi? Beh, in questi giorni stiamo valutando con il delegato, il ragioniere che si occupa di bilancio, qual è la situazione attuale del comune di Rivarolo. I nodi da sciogliere sono veramente tanti, non faccio delle preferenze, ma sicuramente dobbiamo tanto dare corpo e seguire i lavori della scuola, dobbiamo fare attenzione alla qualità dell'aria e dell'ambiente di Rivarolo, dobbiamo creare un arredo urbano e una vivibilità rivarolese accettabile, perché io penso che il più bel biglietto da visita di una città sia quello che quando un turista, una persona viene da un altro paese, vede un ambiente pulito, ordinato, con un'organizzazione anche ambientale accettabile e naturalmente venga a respirare un'aria non inquinata. Quindi sicuramente questo è uno dei primi obiettivi, stiamo prendendo così coscienza di queste cose e quanto prima inizieremo a lavorare. La cultura, la più votata e la più giovane, quali sensazioni, quali emozioni? Beh, in questo momento sono un po' emozionata ancora, un po' frastornata da questi eventi, però sono anche consapevole di avere una grossa responsabilità e spero di poter ripagare la fiducia dei rivarolesi che mi hanno votata, anche di quelli che non mi hanno votata e spero tra cinque anni che possano arrivare i complimenti che sono arrivati per queste elezioni. Si aspettava di essere nominata Assessora alla Cultura? Beh, no, prima di ricevere i 260 voti, dopo qualche idea mi era venuta, era possibile che mi nominassero, però devo ringraziare davvero Alberto Rostagno per avermi dato questa grande fiducia, oltre che questa grande responsabilità. Come valuta Rivarolo sotto questo aspetto, quindi culturale? Beh, Rivarolo sicuramente è sempre stata una città molto viva a livello culturale, anche, soprattutto grazie alle numerose associazioni che ci sono e che collaborano con il Comune e che si spera potranno continuare a collaborare in questi cinque anni e sicuramente c'è sempre comunque da fare, anche se le risorse probabilmente non saranno moltissime, però si proverà a fare, proverò a fare del mio meglio, insomma. La prima cosa da fare? È la domanda più difficile. Sinceramente non lo so ancora, appunto, bisogna vedere le disponibilità economiche e poi si dovrà valutare che cosa si potrà fare, però sicuramente avendo io l'assessorato della cultura e delle politiche giovanili. Di sicuro qualcosa cercherò di far sempre coincidere, di creare appunto collaborazione tra questi due ambiti che è molto importante che appunto i giovani si avvicinino alla cultura e quindi queste iniziative saranno, spero, numerose.